Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, questo oggi vi do tre notizie di cui una parleremo un attimino Allora, Automobilista 2 come vedete qua ha rilasciato l'ultima patch con aggiornamenti grafici minori per completare il DLC che comprendeva appunto il pacchetto Le Mans con veramente il tocco il ritocco magico di quello che è la stagionalità ad esempio di autunno con le foglie eccetera eccetera quindi qualcosa di minore in termini di funzionamento che però fa sempre piacere gli occhi perché Automobilista 2 comunque fa sempre la sua porca figura Cambiamo pagina Rainsport ragazzi, cambio eh? Allora per chi non avesse ricevuto ancora una chiave beta che come me ci hanno messo un anno e mezzo per darmi sta chiave avete la possibilità di poterne vincere una rispondendo a un tweet specifico quindi se avete X adesso si chiama così c'è un post che hanno rilasciato dove dicono stiamo per lanciare un evento il 9 febbraio eccetera ma prima di fare questo e di farvi partecipare per chi non avesse ancora la chiave potete rispondere a questo post ovviamente pubblicando il miglior meme che vi viene in mente su Rainsport i migliori 25 saranno selezionati e adesso veniamo alla notizia clou Le Mans Ultimate il 20 febbraio esce a 24,99€ in Early Access e fin qua uno dice vabbè che vuoi? Che cosa voglio? Voglio che per me è abbastanza inquietante questo Early Access perché in realtà io mi aspettavo un gioco completo c'è sempre un distaccamento di R Factor 2 perché comunque l'hanno provato tanti hanno avuto modo hanno detto guarda R Factor 2 però nello specifico qualcosa di dedicato ovviamente nel mondo delle endurance, le manze eccetera che lo facciamo uscire in Early Access vuol dire per me che non è completo perché è un accesso anticipato a un gioco che deve essere sviluppato che da un lato può essere positivo considerando il fatto che allora vuol dire che deve essere sviluppato quindi hanno che so siamo tutti quelli che compreranno i beta tester quindi avranno un sacco di informazioni però dall'altro mi dico ma cavolo tu devi uscire con una licenza ufficiale le Mans eccetera tutti i problemi di Motorsport Games eccetera sei in ritardo di tre mesi due mesi tre mesi e adesso mi esci in Early Access non so più cosa pensare ragazzi la cosa mi preoccupa perché c'è comunque è come se ci fosse un accumulo di ritardo che non riescono a colmare e che per perché hanno l'acqua fino a qua facciamolo uscire prendiamoci soldi che più soldi che possiamo per autofinanziarci cioè la domanda mi viene spontanea ovviamente io da utente speranzoso che comunque questo sia un titolo rivoluzionario per quanto riguarda la categoria perché io i prototipi mi piacciono tantissimo sono comunque preoccupato vi dico la verità ovviamente sarò il primo lì a fare il cash out per comprarlo però ripeto mi stranisce questa scelta allora probabilmente anche a livello di passatemi il termine di faccia facciamoci in Early Access quello che abbiamo perché se lo rinviamo di nuovo con già tutte le storie che ci sono magari perdiamo di credibilità ecco questo forse questo è il mio pensiero ovviamente spero che non sia così però insomma quello che evidenzia nei fatti mi sembra oggettivamente in quella direzione quindi mi fa un po' paura io spero veramente che Studio 397 comunque riesca a sopravvivere perché ancora non abbiamo più notizie di Motorsport Game che succede come stanno andando le cose ragazzi io vi ricordo che insomma su Studio 397 appeso il titolo che a me sta più a cuore e a tanti di voi che mi seguite è Refactor 2 oltre alle Mans Ultimate vi ricordo che le licenze BTCC come si chiama IndyCar NASCAR le hanno perse ragazzi è una batosta quindi le Mans Ultimate l'ultima spiaggia dove cioè come quindi niente io sarò lì a comprarlo il 20 di febbraio 24,99 euro nella speranza che vada tutto bene